Erano oltre mille le persone che ieri sera hanno partecipato a San Severo, alla fiaccolata per ricordare a Celeste Palmieri, la donna uccisa per mano del marito il 18 ottobre mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. Alla fiaccolata, partita dal parcheggio di Via Gaetano Salvemini, luogo in cui la 56enne è stata colpita a morte dal marito, 59enne Mario Furio, morto suicida pochi minuti dopo all'interno di un'auto, hanno preso parte oltre alla sindaca Lidia Colangelo e il vescovo Don Mengoli. Anche i figli della vittima, tra loro Adriana, la seconda dei figli di Celeste. Io ringrazio tutto il popolo di San Severo per la vicinanza e il calore che mi stanno dimostrando a me e ai miei fratelli e sorelle, perché è una cosa incredibile veramente, si uniscono al nostro dolore che è devastante, è devastante. Una cosa surreale, sembra quasi un film, non riesco a capire ancora... Sembra un film, sembra un film, sembra un film, poi mi chiudo a casa e capisco che è la realtà. Alla fiaccolata erano presenti anche persone provenienti da altri centri nella provincia, tante le associazioni, soprattutto quelle impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne. Il corteo ha attraversato diverse vie di San Severo, da Viale 2 Giugno a Via Padre Matteo Dagnone, passando per Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Municipio, dove c'è stato un momento di confronto e riflessione sull'ennesimo caso di femminicidio in Capitanata.